Quanti disegni, quanti fogli pieni di disegni, virtuali fogli pure i disegni, fatti così, disfatti dal pensiero, accantonati e archiviati, come forse da farsi, le damoiselle d'Avignon, così le negresse verte, le digine sull'herbe, le digine sull'arbre, stanno primati, assiepati sui rami, e io vorrei quei rami presi a me come pennelli farli dipinti, quanto vorrei aver molto di più di quel che ho fatto dipinto. Pi, pi, pi e pu, e pa, e boom, e clu, e clu, e clè, e clè, il pesce d'oro che naviga su quel mare, fatto screziato di geometria, stratte il punto, la linea, la superficie, e Kandinsky, e ancora, non so, i violinisti alati, di quel più non ricordo il nome, pittore, e ancora, tele, tele, tele darei io ancora, delle idee, da tele, per farne oggetto di nuove pitture. Oh, le ninfe, le ninfe, le ninfe, le ninfe, le linfe che scorrono in me, che sono poi non so quali sangue, eppure altre acque liquidi che stanno nel corpo, allocati in non so quali zone del corpo stesso, come avrei voluto essere piuttosto digiuno sull'erba e sull'arbre, anch'io abbracciato, come feci in gioventù, innamorato d'un fico, su esso a, come dire, farmi in su e giù, e poi morire, svenire, preso da tale natura arborea, così mi resta come una voglia inespressa, troppo anche raccontata, di pittura non fatta, mai fatto, di te prodotto immagini espresse, sopra il cartongesso che ricopre una scuola d'infanzia. Oh, quanto infantilmente in balbuzie vorrei piuttosto rattenere la lingua e ancora produrne d'immagini, fare di, come dire, parole piuttosto visioni nuove, non fotografici, progetti, stesure, che già tutto si profila fotografato e fotografabile, starne fuori, nuove visioni, nuovi modi di agire, agitare il visus, questo vorrei fare, piuttosto che chiacchiere, produrre e parlare, e in chiacchiericci condurmi, produrmi in questo, come mi detesto, le damoiselle, davignon e l'apertura del quinto, mi sembra sigillo, copiava il greco, sembra per quelli squarci d'azzurro in confronto a rosa, Picasso ed io pure, in goia, in goia, ti dico, quello sparato, così, di fronte a una serie di miliziani pronti a fare fuoco, fate pure fuoco di tutto quel che ho fatto, non troppo, neppure forse poco, stamani una maestra crudele dovremmo dipingere di nuovo di bianco le pareti, quale fatica ho avvertito a pensare quel che ho dipinto ricoperto di bianco, e quale mancanza di cura, invece crudeltà pura, dirmi, espormi la volontà di coprire tutto di bianco, ma devo sbiancare me stesso, farmi piuttosto proprietario privato, borghese di tele, da esporre future forse, in parcheggi, luogo, deputato alle parche piuttosto, che sai, musei deputati, alle muse, e muso, e maduso, per fare una pittura sociale, non credo, piuttosto spalmarla fuori, Biblia pauperorum, esposta, una storia non biblica, piuttosto nella mia testa riposta, e fatta oggetto, d'esposizione a passanti, ad utenti di scuole, oh, quanto sono lontano, oppure vicino a quel che avrei voluto far di me stesso, e mi sembra pure che a tessere intorno a questo iconico oggetto che è l'essere se stessi sia forse un modo di farsi passati, superati, via via alla cancellazione, alla cancelleria, al cancellamento, ai cancelli chiusi, aperti, di un carcere pregresso, nel quale sempre ti sei chiuso, e lì in chiusura espresso, fatto oggetto di non so quale ludibrio, oh, l'artista, se l'arte si chiude mai nel proprio armadio, si esponga appunto ad un ludibrio pubblico, oh, è pubblico, è stampo, queste poesie, come arrampicamento sugli specchi, come specchi che io vado spaccando, piuttosto ne faccio invece restauro, pulitura con panni di lana, renderli più ampiamente lucidi o riflettenti, ma quanto rifletti, recedi d'ogni pratica di riflessione, poniti fuori dall'astrazione, riprendi in mano il pennello, sottraiti a quel che di te che si fa parte più rilevante, cervello, cer, cer, cervo, cervolo, cervellare, cerebellare, cervo, come fatto da Teone, sorpreso a Diana, vedere, ecco, questo cervo, questo cervello, che è stato come dire, fatto oggetto, distrazio da una muta, di cani pensieri, liberalo dalle parole, sgombra, allontana le mute parole, logica vuole, che tu stia piuttosto nelle pratiche di pittura, anche su mura, anche su niente, ma è quello che faccio di farmi pittore, di niente registratore, chiuso nel tubo, la massima aspirazione è rendersi oggetto fruibile nella grande cloaca youtubica. Grazie!